Un saluto da Dottor Palmas, ti sto mostrando un altro caso di denti fissi con sistema bocca bionica, un paziente che aveva i denti completamente distrutti dal bruxismo, la parodontite aveva fatto il resto. Guarda come la persona si è ringiovanita, prima sembrava quasi un anziano, una bocca completamente consumata, denti assenti e un viso spento, sembra quasi una persona malnutrita. Successivamente abbiamo eseguito le foto, le radiografie per inquadrare il caso, come vedi i denti erano completamente distrutti dal bruxismo, mancavano i denti posteriori che erano stati perduti per parodontite, il sovraccarico nella parte anteriore aveva fatto il resto, le radici erano tutte ormai da sostituire. Questo è il risultato già con i denti provvisori, abbiamo posizionato gli impianti dentali nell'osso, sei impianti nella parte superiore, alcune radici sotto era possibile salvarle, le abbiamo salvate, abbiamo posizionato sopra due impianti speciali pterigoidei che ci avrebbero permesso di terminare il tutto senza dover ricostruire l'osso inutilmente. Questo è lo schema grafico nella parte superiore di come è stato eseguito l'impianto, tieni conto sotto alcune radici le abbiamo mantenute, quindi è un po' differente questo grafico e sulla sinistra qua vedi lo stato iniziale con i denti tutti in espulsione, sul lato destro vedi gli impianti dentali con sopra già i denti provvisori montati, tutti gli impianti dentali inseriti. Questo è il risultato delle protesi che abbiamo realizzato, delle protesi iperrealistiche in zirconio, questa è la linea superior che ci ha permesso di ristabilire la perfetta simulazione dei denti con delle protesi d'autore. Spero ti sia piaciuto questo caso, dai uno sguardo a tutti gli altri.